C'è chi dorme, chi si pulisce, chi starnazza e chi cerca cibo. Papere e cigni da lunedì torneranno ad animare il canale al Bani e Fano. E' stato infatti approvato il protocollo d'intesa da tutti i soggetti interessati per la gestione dell'avifauna e la sostenibilità ecologica, igienico-sanitaria e di decoro del tratto di canale, compreso tra la rotatoria di Sant'Urso e la centrale idroelettrica della Liscia. Dopo le tante richieste e anche se qualche esemplare è tornato già, lunedì si svolgerà ufficialmente il rilascio di un gruppo di anatidi nei giardini pubblici dei passeggi. E' contenta di rivedere questi animali nel canale al Bani? Sì, sì. Ogni volta che passa su questo ponticello si affaccia per ammirarli? Sì, finalmente le hanno riportate. Indubbiamente è una cosa bella e anche venendo io spesso parcheggio qua di fianco proprio per passare qua sopra perché è una cosa che dà sollievo, che è gradevole, è una cosa particolare diciamo. Anche se diciamo speriamo che tornino proprio i cigni anche i neri che sono spariti e il resto, sì. È notizia di questi giorni che lunedì tornerà un gruppo di anatidi, quindi insomma penso che li faccia piacere. Ma sicuramente, sì sì, questo sicuramente. Si ripopola insomma, anche per la gioia dei più piccoli? Anche per la gioia dei bambini. Vi fermate spesso qua a guardare questi animali? Qualche volta sì. Ti piacciono? Molto. Che cosa ti piace di più, la paperella o l'oca? L'oca. Quindi insomma è favorevole a questa cosa? Io sì, io sì. Anzi, pensavo di vedere il cigno. Posso chiederle se ha saputo del ritorno di questi anatidi nel canale Albani? No, perché non sono di Fano. Che cosa ne pensa comunque? Può essere piacevole rimanere a guardarli durante la passeggiata? Sì, sì, no, questo è bello, molto bello. Di dove è lei? Di Lucrezia. Di Lucrezia, beh insomma quindi ci capita nelle parti di Fano. Ci capita, sì sì. È favorevole? Sì. Questo intervento permetterà il ripopolamento della vifauna dopo la morte di decine di animali causata lo scorso anno dalla siccità. È una bella cosa, specialmente per i bimbi. Lei abita qua? Sì, io Fano, sì. Insomma non qui? Via 4 novembre, quindi sono della zona, però io i bimbi li portavo spesso prima a vedere questi animaletti. Mi è dispiaciuto quanto non li ho visti più. Insomma si intrattengono un po' a mirando. Sì, e poi è anche un segno istituttivo per i bimbi. Le fa piacere? Per me possono vivere benissimo lì, non mi danno noia, capito? Quindi per me potete farle stare lì, benissimo. Sì sì, gli animali vengono attirati soprattutto dal mangiare, se trovano la situazione buona, stanno qui, stanno bene. I bambini sono felici? Lui sì, noi sono carini. Siete favorevoli insomma a tenere questi animali qua? Sì, per me non c'è nessun problema, ma io non so di qui li fanno, quindi non faccio testo forse. Allora ti piacciono? Sì. Sono belle da vedere? Sì. Sì.